Ah, credevo che fossimo noi due. Thomas ha insistito per venire. Oh, Thomas? Sì, è il mio fidanzato. Buongiorno, felice di conoscerla. Papà, ti presento, Thomas. Anch'io? Felicissimo. Thomas è venuto a lavorare in fabbrica, è lui che ha installato la pinza idraulica, sai? Ah, la pinza idraulica. Sì, e ti ricordi di Juliette? Oh, oh, oh. La mia macchina! Che devo, l'avessi portata dalla sua sciacarrozza? Oh, no, volevo farti una sorpresa. L'ho fatta revisionare. Oh, signore. Mancavano dei pezzi. Li ho trovati da un collezionista a quattro soldi. Sei contento? Oh, non mi sembra possibile. Sei contento? Oh, sì, felice. Vedo che ho indovinato. Florida, è una macchina americana? No, è fabbricata in Francia. Dai, passami le chiavi. No, non se ne parla di guidare. Avrete notato che mia figlia è un vero cerbero. L'ultima volta che hai preso in mano il volante, hai imboccato l'autostrada contro mano. Ma ho imboccato l'autostrada contro mano. Eh, sì. Ma ho imboccato l'autostrada contro mano. Oh, no! Ma ho imboccato l'autostrada contro mano. Qu'è? Qu'è?